Consegna il premio Graziano Somaschiri del Sibo, distributore italiano di Sennheiser. Grazie al vostro spot. Adesso sì, so che ci saranno le sorprese. Io volevo chiederti qualcosa sull'ultimo tuo album in alto vicentino, in dialetto alto vicentino. Il cartone qua l'ha preso, è anche della cinquina del premio Tenko. Stavo per fare un danno? No, scusate. Ok, sì. In realtà è la cinquina del premio Tenko, sì, infatti è una cosa che mi fa molto felice. È un brano che è un album di cui sono anche produttrice artistica, ma insieme ad Adolfo Santimone, che ha composto con me moltissimi dei brani che ne fanno parte. Bene, poi so che ci saranno la sicurezza anche con lui. Sì. Adesso ti lascio direttamente a questo tuo intervento. Ti lascio il microfono, te lo do. Ti lascio il microfono. Tengo la tua... Patrizia, dà un'altra. Patrizia, dà un'altra. Patrizia, dà un'altra. È così voi. Inoltre. È così voi. La tuafina Tu corazon con il mio, tu corazon con il mio Luna, luna, luna Niano menguante Luna, luna, luna Niano menguante Anda un ceccio alla casa E me tras la carabina Iho! La luna Mi sta mirando Io non se lo che bebe Io tengo la ropa limpia La luna Mi sta mirando Io non se lo che bebe Io tengo la ropa limpia Io tengo la ropa limpia Ai tardè non lo ve Ai tardè non lo ve No, no, no.